Ciao ragazzi, un saluto a tutti quanti. Allora, la lezione che oggi andremo a trattare, come volete leggere da questa prima slide, riguarderà la ketogenesi. Come suggerisce la parola, ketogenesi sta per genesi keto, quindi dei corpi ketonici. Ora, quindi parleremo di cosa sono questi corpi ketonici, come vengono sintetizzati l'organismo e qual è la loro funzione. In effetti questi corpi ketonici sono dei veri e propri salvavita, soprattutto per quei tessuti che non sono in grado di utilizzare i grassi come combustibile metabolico. Ora, in condizioni come sappiamo di digiuno prolungato, per esempio tra un pasto e un altro, oppure dopo un'attività fisica estenuante, il nostro organismo si ritrova con una carenza di glucosio nel sangue, ma anche magari disponibile dagli organi per essere utilizzato come combustibile. Cosa fa l'organismo? Cerca di fare quello che può, e in particolare il fegato, che è l'organo implicato in quella che è l'omeostasi del glucosio, attiva la gluconeogenesi. Ora, come sappiamo, il fegato, diciamo che utilizza, sì, glucosio anche per produrre energia, ma in modo particolare per produrre energia il fegato utilizza i grassi, e quindi è molto attiva la betaossidazione, che scinde gli acidi grassi, come sappiamo, abbiamo visto nella lezione precedente, in tante unità di acetilcoenzima A, che poi entrano nel ciclo di Krebs per combinarsi con l'osso acetato e, appunto, generare energia. Ora, l'acetilcoenzima A si deve combinare con l'osso acetato per entrare nel ciclo di Krebs, tappa fondamentale perché si avvii questo ciclo e quindi venga prodotto poi ATP grazie alla fosforiazione ossidativa. Che succede allora? Che durante un digiore prolungato nel fegato si attiva la gluconeogenesi. La gluconeogenesi sottrae intermedia al ciclo di Krebs, e in particolare, diciamo che l'osso acetato è quello che viene sequestrato dal ciclo perché viene utilizzato nella gluconeogenesi per produrre glucosio. Sottraendo questo intermedio al ciclo di Krebs, inevitabilmente gli acidi grassi endogeni, quelli mobilizzati dal tessuto adiposo, vengono indirizzati nel fegato verso la sintesi di quelli che sono i corpi chetonici, un processo noto come chetogenesi. Corpi chetonici che sono composti idrosolubi, ricchi di energia e alternativi al glucosio. I corpi chetonici poi vengono utilizzati da diversi tessuti extraepatici nei momenti di digiuno prolungato, nel senso che in questo caso l'organismo si trova in una condizione per cui manca l'intermedio che è l'osso acetato perché viene sottratto per la gluconeogenesi, perché c'è meno assato acetato. L'acetilcoenzima non può entrare nel ciclo di Krebs. E allora che fa questo acetilcoenzima? Rischierebbe di accumularsi all'interno del fegato. E quindi cosa fa il fegato? Per evitare un accumulo inutile di acetilcoenzima, lo trasforma, combina due unità di acetilcoenzima a dare i corpi chetonici. I corpi chetonici prodotti però non possono accumularsi nel fegato, anche perché non servirebbero molto lì, visto che per essere usati vanno ritrasformati in acetilcoenzima. Cioè insiclerebbe quello che è un ciclo futile, se vogliamo. Cioè nel mole ho prodotti e li riconverto di nuovo in acetilcoenzima. E perciò vengono immessi in ciclo e vengono usati come substrato energetico da altri tessuti non epatici. Tessuti che evidentemente hanno una betaossidazione meno marcata o non ce l'hanno proprio. Un esempio è il cervello. Il cervello non ce l'ha proprio la betaossidazione, perché il cervello non è capace di utilizzare gli acidi grassi come combustibile metabolico. E purtroppo è per questo che, lo dico a tutti quelli che studiano e che stanno ora sedute su una sedia davanti a un leggio magari, che studiare e studiare fa consumare glucosio, ma purtroppo non grassi, altrimenti i grandi studiosi dovrebbero essere delle acciughe, dovrebbero essere molto magri. Invece, ahimè, siamo fatti in questo modo. Fatti in modo tale, come potete vedere da questa slide, che quando vi è un abbassamento di glucosio nel sangue, viene rilasciato il glucagone, come sappiamo. Il glucagone quindi stimola la formazione di glucosio di fosfato, o dalle riserve di glicogeno, viene liberato il glucosio di fosfato, o per gluconeogenesi dal piruvato, viene prodotto il glucosio di fosfato. La gluconeogenesi però coinvolge, come sappiamo, anche l'ostalacetato che può essere sottratto, come ho già detto prima, al ciclo di Klebs. Un altro precursore per la sintesi di glucosio di fosfato è il glicerolo, ottenuto dalla scissione nel tessuto adiposo dei trigliceridi, a dare acidi grassi e glicerolo. Gli acidi grassi poi, proprio in condizioni di digiuno prolungato, vengono trasformati in corpi chetonici, destinati, come sappiamo, al muscolo e al cervello, che sono quelli che sfruttano in grande quantità. In modo particolare il cervello, perché il glucosio si può sopperire alla mancanza di zuccheri nel sangue, perché in effetti, nel momento in cui c'è una carenza di glucosio, l'organismo lo produce da sé, attraverso la gluconeogenesi, che può partire da diversi precursori, sia più semplici, sia più complessi, e produrre glucosio. Ma alle volte non basta, perché il digiuno è particolarmente lungo, non vengono assunti zuccheri, e quindi ecco che entrano in gioco i corpi chetonici, ottenuti dall'acido ilcoenzima A, cioè l'acido grasso viene scisso in unità dell'acido ilcoenzima A, e l'acido ilcoenzima A viene utilizzato per produrre i corpi chetonici, che vengono mandati al cervello, ma anche altri tessuti, come il muscolo, il cuore, ma anche ai regni, vedete, ecco, questi sono gli organi che utilizzano i corpi chetonici, diciamo che vengono poi distributi dal fegato a questi organi. E quali sono questi corpi chetonici di cui finiamo parlato? Sono questi tre che vedete cerchiati, l'acido acetato, l'acetone e due acidi idrossibutirico, o idrossibutirato se preferite. Vediamo però come vengono sintetizzati a livello epatico. Si parte da due unità di acidi ilcoenzima A, semplicemente, prodotte dall'ossidazione dei grassi. Queste due unità vengono combinate in una reazione catalizzata da un enzima, che è la tiolasi. Questa reazione in realtà è una reazione irreversibile, come potete vedere dalla doppia freccia, nel senso che la tiolasi catalizza sia la combinazione di due molecole di acidi ilcoenzima A a dare l'aceto aceti ilcoenzima A, ma anche quella inversa, che è l'aceto di acidi ilcoenzima A, mi dà due molecole di acidi ilcoenzima A. Ma vediamo questa reazione, combinare due aceto di acidi ilcoenzima A a dare l'aceto d'acti ilcoenzima A. L'estidattivo della tiolasi comprende queste due cisteine, come vedete, e l'istidina. L'icidina strappa un protone all'acisteina 89, rendendola un ottimo nucleofilo che attacca il carbonio carbonilico dell'acetilcoenzima A. Viene liberato coenzima A che strappa il protone all'acisteina 378, quindi si libera praticamente l'acetilcoenzima A. Quello che si forma è un legame dioestere tra l'acisteina 89 più questo appunto zolfo legato a un acetile. Cosa accade a questo punto? Che in effetti quello che interviene è un'altra molecola di coenzima A che si lega, riformando nuovamente una molecola di acetilcoenzima A. Ora, quello che accade, che in effetti, vedete, qua in effetti vi mostra questa via, la via biosintetica, questa opposta, la via degradativa. Cosa interviene a questo punto? Interviene sempre questa stessa cisteina 378 che strappa un protone alla, diciamo, a questa molecola sostanzialmente di acetilcoenzima A. In particolare la strappa a questo carbonio, carbonio in alfa al carbonile. E avviene quindi una condensazione con quest'altra molecola, vedete, che è legata al sitoattivo dell'enzima mediante la cisteina 89. Si forma, ecco qua, alla fine, l'acetoacetilcoenzima A. L'acetoacetilcoenzima A, che a questo punto viene trasformato in questa molecola, come potete vedere, questo intermedio, grazie a un altro enzima che è l'idrossimetilglutalilcoenzima A sintasi. C'è solo il nome, perciò l'hanno chiamato HMG, saveridrossimetilglutalilcoenzima A sintasi. Allora, perché in effetti qua abbiamo diverse reazioni, abbiamo, cioè, questo stesso enzima, a partire dall'acetoacetilcoenzima A, mi dà idrossimetilglutalilcoenzima A, che è questo composto che vi sto indicando. La reazione avviene in più fasi. Abbiamo prima l'acetilazione, come vedete, in cui abbiamo che l'enzima, essenzialmente, con un suo residuo amminoacidico carico negativamente, si lega all'acetoacetilcoenzima A, liberando il coenzima A, si forma un complesso, appunto, enzima substrato. A questo punto avviene una reazione di condensazione, in cui abbiamo che una base, un residuo basico del sitoattivo, strappa un idrogeno al carbonio metilico in alfa carbonile, si forma un carbonio carico negativamente, che quindi può attaccare l'acetoacetilcoenzima A, poi vedete qui abbiamo la rottura del doppio legame, la formazione di un gruppo sidilico e, infine, l'idrolisi, la delatazione, che con una molecola d'acqua rompe il legame dell'idrossimetilglutalilcoenzima A all'enzima. Si forma quindi questa molecola, idrossimetilglutalilcoenzima A, che è questa che vi ho detto, che poi viene trasformato, grazie all'idrossimetilglutalilcoenzima A, l'iasi, nel primo corpo chetonico, che è l'acetoacetato. Come avviene la reazione catalizzata da questo enzima? Essenzialmente un'idratazione, perché abbiamo che la molecola d'acqua strappa un protone al gruppo sidilico, si forma un doppio legame, si rompe il legame carbonio-carbonio e viene liberato coenzima A, cioè aceto-ilcoenzima A, scusate, aceto-ilcoenzima A, e questo, che è l'acetoacetato. L'acetoacetato è quindi il primo dei corpi chetonici, che però è anche il precursore degli altri due corpi chetonici, perché dall'acetoacetato possiamo avere due possibili vie. O una decarbossilazione, quindi l'allontanamento di questo gruppo carbossilico a dare acetone, oppure possiamo avere essenzialmente una riduzione dell'acetoacetato a betitrossibutirrato, con il trasferimento di un protone dal NAD all'acetoacetato a dare NAD+, quindi NAD nella sua forma ossidata. Quindi abbiamo decarbossilazione o riduzione. Quindi vedete che in effetti sono questi tre i corpi chetonici, l'acetoacetato e i suoi derivati, diciamo, l'acetone e il beta-idrossibutirrato. Ora, diciamo che la formazione dei corpi chetonici sta alla base di una dieta, nota come dieta chetogenica. Questa dieta chetogenica, che è molto utilizzata per perdere anche peso con una certa rapidità, è una dieta che prevede, diciamo, un introito di carboidrati ridotto in maniera drastica, sostanzialmente. Come vedete, infatti, questa dieta prevede solo il 5% dei carboidrati, il 25% di proteine e il 70% di grassi. Qua è ripetato sia olio che burro. Quindi è una dieta in cui tu introduci una buona quota di grassi, una certa quota di proteine e i carboidrati sono quasi aboliti, si può dire, in questa dieta, perché la loro percentuale addirittura qua è pari al 5%. Ora, qual è il vantaggio di questa dieta? È che, in effetti, tu, riducendo drasticamente i carboidrati, induci l'organismo a attuare sia la gluconeogenesi, ma inevitabilmente, mancando il glucosio, poiché il cervello ha bisogno di energia e la sua energia deriva solo o dai zuccheri o dai corpi chetonici, in assenza di glucosio, perché abbiamo ridotto l'introito di carboidrati, inevitabilmente l'organismo va verso la chetosi, cioè inizia a produrre i corpi chetonici, che dal fegato vengono distribuiti agli altri, appunto, tessuti. Inevitabilmente, per produrre acidi il coenzima A, i grassi, gli introdotti, vengono bruciati, consumati, a dare acidi il coenzima A, e dalle molecole di acidi il coenzima vengono prodotti i corpi chetonici. Quindi, sicuramente, il fatto di non introdurre zuccheri fa sì che l'organismo tenda a produrre corpi chetonici e quindi a bruciare i grassi più facilmente. Certo, questa dieta ha degli inconvenienti, come per esempio il fatto che non si può sgarrare, nel senso che basta sbagliare e iniziare a introdurre, anche solo un giorno, i zuccheri nella dieta, che l'organismo inizia a utilizzare gli zuccheri e non più a produrre corpi chetonici, giustamente. E' quindi una dieta che sicuramente richiede sacrificio, anche perché soprattutto i primi giorni si potrebbero avvertire dei sintomi come per esempio stanchezza fisica e mentale e debolezza. Però, in effetti, se eseguita fa perdere sicuramente peso. Certo, non andrebbe eseguita oltre le due o tre settimane, cioè non si può tenere una dieta chetogenica a lungo termine, anche perché inevitabilmente i tre corpi chetonici vengono poi smaltiti a livello renale. Quindi, in effetti, un eccesso di corpi chetonici potrebbe causare danni a livello renale. Con questo abbiamo concluso, ragazzi, anche questa lezione. Alla prossima!